Musica Ma allora ci siete anche questa sera? Buonasera, è un piacere di ritrovare tutti voi. Oggi io sarò sì in studio che in giro. Lo vedete? Questo è lo studio. Partiamo dunque nel nostro ambiente, diciamo così, privilegiato, quello del nostro salotto di angoli. Quindi ricordatevi di segnare subito come ogni sera il nostro indirizzo email angolichiocciolespansionetv.it come sempre è il riferimento per entrare in contatto con noi. Più tardi, con una grande magia televisiva, noi andremo a vedere una bellissima attività di Olgiati Comasco. Rimanete con noi, ma apriamo invece parlando di un evento veramente particolare da non perdere che sta per arrivare nella nostra città comasca dove si uniscono solidarietà sociale e arte. Per parlarvene vi dico subito che sono in compagnia di due bellissime donne alle quali do il benvenuto. Innanzitutto, ben arrivata, Maria Antonello. Buonasera. Buonasera, Maria. Ricordo che tu sei presidente degli Amici di Simpatia. A brevissimo ricorderemo di cosa si tratta. Non sei da sola con un'altra bellissima donna, Elena Viganò. Buonasera. E fa parte anche lei, ovviamente, degli Amici di Simpatia. Dunque, dobbiamo dire subito, per chi non lo sapesse, che cos'è l'Associazione Amici di Simpatia. E che cos'è Simpatia, Maria? Esattamente. Iniziamo col dire cos'è Simpatia. Simpatia è una residenza sanitaria per persone disabili. Disabili o dalla nascita per malattie genetiche, oppure per traumi o incidenti subiti nel corso della loro vita. La struttura ha sia ospiti fissi, che quindi vivono nella struttura sia di giorno che di notte, e invece ha altri ospiti che vivono solo la giornata. Quindi passano poche ore, magari, durante il giorno. Sì, esatto. Il centro offre loro svariate attività, svariati laboratori, un'area informatica molto ricca, e poi altre attività che sono aperte anche al pubblico, quindi agli esterni, che sono la palestra e la piscina. Io voglio ricordare che c'è un sito internet, perché comunque sia noi arriveremo a parlare in modo privilegiato adesso di un evento organizzato a favore di Simpatia. Ma tutti quelli che ne vogliono sapere di più, proprio sul centro, www.sim-altopatia.it, questa è l'home page, così almeno rimandiamo anche tutti ad avere maggiori informazioni, perché i comaschi lo conoscono, è una realtà molto importante. Ecco, allora, stavo dicendo che tutte queste attività sono indirizzate al tentativo di rendere la vita dei nostri ospiti il più autonoma e il più indipendente possibile. Nello specifico, noi, amici di Simpatia, ci occupiamo di organizzare eventi per raccogliere fondi a favore di Simpatia. Questo dell'asta è uno in particolare, il più importante che abbiamo organizzato quest'anno, e come dicevo prima, l'obiettivo è quello di aiutare gli ospiti del centro a vivere una vita quanto più normale. Tutto questo sviluppando, soprattutto in questo momento, il polo tecnologico. È facile capire che per aiutare queste persone disabili gli strumenti tecnologici all'avanguardia sono fondamentali per tutte le loro attività. E allora, ecco, guarda che stiamo vedendo già delle immagini, per raccogliere i fondi per migliorare la vita delle persone che appunto abitano Simpatia o trascorrono delle ore della loro giornata, arriva Battuta d'Arte, quindi un'asta di fatto. Vediamo delle sedie, Elena. Partiamo proprio spiegando che cos'è questa Battuta d'Arte. È un'iniziativa nata in quale modo? L'iniziativa nasce esattamente due anni fa, durante l'organizzazione Orticolario, che vedeva 50 sedie rosse di legno che sono state donate dall'azienda Riva 1920 di Cantù. Inizialmente era un'installazione dell'artista svizzero Daniel Berset. Poi queste sedie rosse sono state messe a disposizione dalla ditta Riva, proprio messe a disposizione a tutte le onlus con cui collabora Orticolario. Noi di Simpatia abbiamo colto l'idea e abbiamo cercato di dare la possibilità a 50 e più in verità artisti, design, stilisti e anche imprenditori, perché non è soltanto una cosa che nasce solo per chi è già capace, di poter trasformare, rielaborare, reinterpretare, reinventare, rendere unica un qualcosa che doveva diventare, un qualcosa d'arte che doveva lasciare il segno. Queste immagini sono bellissime, intanto per questo ringrazio anche la Olo Creative Pharma, perché le hanno girate, sono come tutti i loro lavori bellissime, e vediamo alcuni di questi nomi che noi per vederli tutti invitiamo sempre a andare sul sito. No, spiego questa cosa. Rosanna Viganò, che è una delle socie fondatrici di Simpatia, è una grande appassionata d'arte, ha cercato appunto di coinvolgere, lo vediamo anche con il filato che state magari proiettando, ha cercato proprio di coinvolgere emotivamente gli artisti, i design, cercando appunto di far sì che loro stessi potessero essere emotivamente coinvolti anche per quello che era Simpatia, e quindi cercare di, non lo so, di lasciarsi coinvolgere da quello che è la missione e il perché si fa questa cosa, il perché noi amici di Simpatia cerchiamo sempre di creare degli eventi per aiutare l'associazione, per cercare i fondi per poter aiutare l'associazione. Gli artisti che vedete lì, ma che non tutti, perché purtroppo quando è stato fatto il filmato chiaramente non c'era la possibilità, è stato fatto tra l'altro proprio nella sede di Valmorea di Simpatia. Abbiamo nomi importantissimi, passiamo da Omar Gagliani a Collina, De Lucchi, Branzi, abbiamo stilisti a livello di Fendi, Fabio Ziumusa, Agatha Ruizia La Prada, abbiamo nomi importantissimi, questi sono solo alcuni. Allora, io rimando sempre al sito internet, soprattutto se volete andare a vedere il catalogo delle sedie che noi adesso stiamo guardando, però se lo volete vedere a casa vostra con calma, il sito è sempre quello di Simpatia, però aggiungete slash astasedie, perché alla fine 50 e più pezzi, 50 sedie che sono diventate pezzi unici rielaborati da tutti questi artisti che adesso andranno all'asta. Tra l'altro i più attenti si saranno accorti che fino al 4 novembre sono state tutte esposte alla triennale Milano. Questo ha dato una grande importanza, perché la vostra possibilità di avere l'esposizione in triennale ha fatto sì che c'è stata l'inaugurazione esattamente il 24 ottobre. Ha riscosso un enorme successo. Portare tanti comaschi a Milano per un'inaugurazione è già un grande successo, ma poi soprattutto ha riscosso successo anche sui milanesi, quindi ne hanno parlato i giornali, ne hanno parlato diverse riviste, e quindi questo ha dato possibilità sia agli artisti di capire l'importanza dell'evento. E poi anche una cosa che servirà a tutta la risonanza che avete avuto, servirà proprio nella finalità della giornata di domenica 10 novembre alle ore 10.30 a Palazzo Terragni, dove si batterà proprio l'asta. Tra l'altro avete un ospite eccezionale, la signora Gastel di Cristis, che arriva, vero? Esatto, sarà lei grande esperta d'arte e a battere l'asta di domenica. Ricordiamo appunto alle 10.30 questo momento importante in cui la solidarietà e l'arte si uniscono. Questo un po' per aprire diciamo il cerchio, il cerchio di simpatia, per far sì che possa essere aperto anche un po' agli estranei, agli stranieri, di quelli che non vivono quotidianamente questa realtà. Diciamo che l'arte in questo evento vuole essere un po' un veicolo per unire il pubblico non abituato, insomma, renderlo anche più sensibile a certe realtà che sono così vicine, che però, insomma, restano magari un po' latenti e non sono così facilmente visibili quotidianamente. Maria, c'è un'esposizione tra l'altro anche, all'interno di Palazzo Terragni, sabato 9. Sì, ricordiamo che per chi lo desiderasse è possibile visionare in anticipo le sedie sabato pomeriggio a Palazzo Terragni dalle 15 alle 19, in modo tale che chi fosse interessato a partecipare all'asta può arrivare già domenica mattina preparato avendo già visto quali sono le sedie disponibili. che andranno, esattamente. Tra l'altro tanti si sono mostri, ce l'avete detto, sulla triennale. Anche perché il catalogo è online, quindi chiunque lo può vedere andando nel sito di Simpatia, cliccando catalogo online, quindi comunque si può arrivare già preparato, insomma. E allora studiamo un po' sul sito, dico. Andiamo a capire anche cos'è veramente la realtà di Simpatia, perché questo è lo scopo. Gli ultimi 30 secondi per ricordare chi ha partecipato all'iniziativa. Sono tantissimi, non possiamo minare tutti. Chiaramente artisti, designer e altri personaggi per quanto riguarda la realizzazione delle sedie. Noi amici di Simpatia, nello specifico noi con la signora Elena Mantero, la signora Rosanna Viganò, anima di questo progetto. e con l'aiuto di tante persone che volontariamente ci hanno supportato a partire dagli Olo, Creative Farm, insomma, ma tantissimi altri che adesso non abbiamo il tempo di nominare, ma che ringraziamo per averci comunque supportato con grandissima generosità, perché forse non si rende conto, ma il lavoro che c'è dietro è veramente tanto. Imponente, siamo assi una grande squadra, è stato un lavoro corale, dunque tanti in bocca al lupo per la battuta d'arte seconda edizione che si terrà proprio a Palazzo Terragni nella città di Como alle 10.30 di domenica 10 novembre. Io ringrazio voi che avete rappresentato l'associazione Amici di Simpatia, dunque grazie a Maria Antonello. Grazie a voi. E grazie a Elena Viganò. Grazie mille. E noi dobbiamo interromperci per un pochino di pubblicità, torniamo fra pochissimo, come sempre, come sappiamo fare noi, con una magia.